e siamo giunti alla quarta una buona moneta per anziani sul medio non partente usengo ne rimangono in dieci l'ultima ottima di travel firm lui è il più gettonato attenzione anche a teodoro tres reinas e thriller bio che ha vinto ieri al montato con monterizo mezzo meccanico in movimento problemi per thriller bio si rimette parte piano uma del ronco via la macchina e si lotta per il comando rientra bene universal game e difende i birilli da travel firm che cerca di parcheggiare o andare dritto camalia al completamento del lancio allarghe ulaz 13 a partire problemi e così a tabellone finisce qui la corsa di uno dei favoriti si va al completamento della piegata e anche del quarto quarto iniziale è passato in 28 e 9 è passato il numero 9 e ulisse f e conduce liberamente poi universal game thriller bio che prende la via del largo andatura sollecita 600 in 43 8 e cavalli che affrontano la piegata thriller bio a gancia ulisse f si va a doppia fila sulla penultima curva il completamento del mezzo miglio in 59 scarso non avvengono variazioni sostanziali con l'avversario che impegna a fondo ulisse siamo a un chilometro molto forte 12 e 9 sul mio addirittura 500 alla meta universal game fa una mezza ruota per liberarsi e prende la scia di curva finale così allunga e prende vantaggio scappa via giorginio e prende netto vantaggio cavalli al completamento e la curva finale retta d'arrivo tento lo stacco universal di dentro va teodoro e all'argo viene via universal game passa teodoro e così teodoro in vantaggio doppio per manini dolci ulisse f si salva da universal game 1 57 1 addirittura signori chapeau anche a questo l'hanno fatta un po la corsa ma manini dolci cinico attendista come al solito brucia gli avversari 3 67 in chiusura 10 9 2 e la probabile arrivo da menzionare questo ulisse f e anche universal game sempre probabile ufficioso e l'arrivo doppio di vincenzo d'alessandro junior